Da una ricerca del posizionamento delle industrie agroalimentari abruzzesi nel mercato nazionale, che ha come obiettivo quello di analizzare il ruolo e le capacità competitive dell'industria alimentare regionale nel mercato nazionale, emerge che se circa il 49% delle industrie agroalimentari abruzzesi è preoccupato dalla diminuzione della domanda e l'85% dalla crisi economica, quasi il 46% di esse prevede condizioni favorevoli, quali la richiesta di maggiori livelli qualitativi e l'apertura di nuovi mercati di sbocco. Proprio per cogliere tali condizioni, le aziende stanno valutando una serie di strategie di marketing incentrate sui prodotti, come l'aumento della specializzazione e della qualità, la differenzazione della concorrenza e il controllo accurato di costi di produzione. L'indagine, realizzata su un campione di 68 imprese dal Cresa, Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali delle Camere di Commercio d'Abruzzo, rivela che le strategie di qualificazione, differenziazione e specializzazione della produzione sono diffuse in tutti i comparti e costituiscono una delle risposte per far fronte alle sollecitazioni dei mercati nazionali e internazionali. Stando ai risultati della ricerca, il miglioramento della qualità dei prodotti è importante dal punto di vista strategico, per sostenere i prezzi applicati dalle imprese, generalmente più elevati della concorrenza. In tal senso, sono utili le attività di comunicazione e promozione del prodotto. Le aziende prese in considerazione sono quelle dei settori alimentari e delle bevande alcoliche. Queste hanno mostrato una buona capacità di tenuta, sono cresciute in termini di dimensioni e sono riuscite ad innovare. Per di più, hanno un forte legame con il territorio, trasmettendo così l'immagine dell'Abruzzo come regione verde e dei parchi.